E' visibile a Palazzo Lascaris fino al 28 giugno la mostra Naturalmente, dipinti e fogli botanici dal Piemonte. La rassegna curata da Gianluigi Giampuzzi propone una selezione di opere del pittore alessandrino Fabrizio Cordara, ispirate al paesaggio piemontese e realizzate con tecnica mista. Abbinate sono visibili varie fotografie dell'erbario di Alfonso e Ada Sella, realizzate da Angelo Garoglio e messe a disposizione dal Museo Regionale di Scienze Naturali. Questa mostra è nata da un progetto sul Piemonte, sulle bellezze del Piemonte, quindi non solo sull'alessandrino visto che l'artista è di Alessandria, con un significato però molto importante perché l'uomo senza la natura non può esistere. Solo scoprendo e riscoprendo la natura può riscoprire se stesso e dialogare sia con il prossimo che con il mondo che lo circonda in una maniera diversa. Questo è praticamente il live motive della mostra.